A 20 anni, una vittoria, zero sconfitte, zero pareggi, viene da Parete Caserta, rappresentato dal Team Aventador, dalla Black House di Los Angeles, arriva Davide Caruso! A 20 anni, una vittoria, una vittoria, una vittoria, un'altra vittoria, una vittoria, il suo stile è la Muay Thai e il K1 in cui ha accumulato 6 vittorie 5 sconfitte e 4 pareggi viene da Torino per il Ludus Magnus entra Dominic Fontanella in cui ha accumulato 6 vittorie per questo match sono previsti tre bravo a 5 minuti arbitra Andrea Bruni a 5 minuti Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.